ma volevo qualcosa di più grosso e più in città si guarda in giro e compra due terreni uno a Brescia Centro e sarà poi destinato a costruire un locale che ancora oggi c'è che però non è più nostro, che si chiama Paradiso e il terreno in Franciacorta in parte appunto in Berlucchi eccetera eccetera e nascerà poi lì il Namberino che era la prima struttura piccolina e di seguito poi il Number One con le varie sale